Ciao ragazzi, benvenuti alla prima lezione, tra virgolette, al primo episodio di L'Officina è Basso, dove vi mostrerò con le giuste premesse, tanta cautela, tanta pazienza, quello che ho imparato con gli anni, da quando sono ragazzino che smonto, mi piace già di mio smontare e rimontare le cose, quindi da quando ho 14 anni che rompo bassi, ordino pezzi, assemblo, mi diverto, quindi nel corso degli anni appunto ho fatto un po' di esperienza, sbagliando si impara e volevo mostrarvi come poter fare tante cosette senza per forza ricorrere a spese enormi, quindi gli usaio e attrezzi costosi e via dicendo, quindi con piccoli oggettini che si trovano e fai da te tranquillamente, senza spendere un granché, vi mostrerò l'assemblaggio di uno strumento partendo da zero e poi vediamo piano piano come evolve e finiremo con la parte elettronica, quindi come sostituire o montare o riparare la parte elettronica dello strumento, quindi pick up, potenziomeri e quant'altro, condensatori, la parte del manico, la tastiera, come curarla, come montare le corde, come sostituirle, come regolare tutto quello che c'è da regolare e cercherò di farlo spiegandolo nel modo più semplice possibile, anche perché non sono tanto colto da usare paroloni quindi vi faccio vedere la mia modestissima stanzina e vi faccio vedere cosa uso io, cosa serve questi sono i miei arnesi, qui c'è di tutto, motoseglie, attrezzi da lavoro, giardinaggio, lascio far tutto, c'è di tutto, un compressorino, due biciclette e un tavolino allora, primo consiglio che vi do veramente con il cuore è quello, se ne avete modo, di crearvi uno spazzettino dove nessuno vi rompe i cosiddetti coglioncini quindi se avete, come ho io, la fortuna di avere un garage, perfetto altrimenti cercate, come quando non lo avevo, di crearvi uno spazzetto, in una stanza dove potete mettervi lì con calma, sottolineo, con calma perché questi lavori qui, chi ha fretta, è meglio se non ci si mette quindi ci vuole calma e sangue freddo poi, io utilizzo, tutte le cose che utilizzo sono qui, più o meno allora, vediamo un semplicissimo saldatore a stanno non so come lo chiamate voi è questo qualche prodottino semplice per la pulizia, lo strumento ci sono di tutti i tipi questa roba di mille anni fa comunque fa sempre comune poi, per vedere, faccio un po' di scorte innanzitutto, se avete un tallo, non fate l'errore che ho fatto io che mia madre mi voleva allinciare mettete sempre un bel cartone sotto il più spesso possibile perché spesso, gioco di parole ci può scappare mano cacciavite o qualsiasi altra cosa e si può scheggiare il tavolo e poi la mamma o la moglie ci mandano fuori di casa poi, qui dentro a Milano un riattivo a contattino questo è tutto per la parte elettronica un martellino diciamo di gomma molto utile procuratevi più brugole possibili perché il truss road e soprattutto le regolazioni del ponte le hanno fatte sfortunatamente con mille misure diverse quindi ogni ponte più o meno ha una chiave una misura delle brugoline diversa qui c'è altra pulizia un po' di nastri vari forbici da, diciamo, da elettricista cacciavite calciavite calibri questi come si chiamano i spessori per misurare distanze varie eccetera il nostro isolante ovviamente uno spazzolino non si sa mai che tra una corda e l'accia se vi volete lavare i denti non so perché è finito qui un po' di carta a vetro se volete fare altri tipi di operazioni che poi vedrete in emozione e anche basta diciamo poi allora facciamo finta che avete come me la fissa per l'assemblaggio cercare pezzi a pochi euro e poi cercare di mettere insieme qualcosa che poi possa essere diciamo suonabile facciamo finta che avete acquistato per esempio un corpo così però non lo prenderò di esempio perché questo veramente ha preso una leggerissima caduta e mi scivola troppo ora per sistemarlo quindi in genere quando comprate roba molto molto economica che non è detto che non sia di qualità che poi dipende dal legno può capitare che vi addivi magari con misure non diciamo non classiche quindi dovete fare un po' di all'esaggi diciamo così vi dovete reinventare un po' per rimetterlo a misure che qui ci va ovviamente il manico può capitare anche questo oppure che le misure dei fori non tornino ma vedremo tutto insieme dopo ecco facciamo conto che avete comprato questo bellissimo corpo che non si direbbe ma è originale della fede pazzesco e lo avete pagato come me tipo 30 euro qualcuno magari non sa nemmeno cos'è ve lo danno così purtroppo quindi la prima cosa da fare sarà finirlo di di cartare stuccare le parti rotte perché questo probabilmente è stato preso a sassate però è un fede originale credo messicano ma a noi ora poco ci importa un manico in questo caso nuovo nuovo cioè nuovo nel senso che si fa finta che sia nuovo vedete lo danno in genere in questo modo qui ovvero spesso con le meccaniche già al loro posto altrimenti le togliamo cioè le tolgo e poi vi faccio vedere come che possibili problemi si possono trovare quando si ordinano separatamente dal manico quindi che non tornino fuori che manca qualche pezzo eccetera eccetera di solito vi danno una placchetta e le viti del del manico appunto poi avete tutta la parte elettronica che però vedremo successivamente quindi pick up collegamenti cavi cavetti circuito diciamo il ponte le manocole dei potenziometri i potenziometri il condensatore tutto diciamo vi siate procurati tutti volete partire da zero quindi io vi mostrerò ripeto nella mia semplicità tanta tanta semplicità nella vita e leggerezza vi mostrerò come divertirvi soprattutto questo quindi io parlo di roba non costosa e non mi permetto non voglio indurvi in tentazioni di lavorare su oggetti costosi a meno che voi non abbiate già una discreta manualità quindi non avrete bisogno della mia guida ma altrimenti vi consiglio di o avere già cioè vi consiglio o avete già roba economica col quale sperimentare o comunque che volete assemblare sono ordinarie su internet tanto si trova di tutto semmai vi aiuto io mi scrivete cose economiche oppure cose come ho trovato io distrutte da rimettere su tanto si vedrà tutto insieme quindi ragazzi allora se avete critiche ultimamente sto vedendo diversi pollicini in giù però se non mi scrivete cos'è che non vi piace nelle mie lezioni ovviamente sono musicista per chi magari si è collegato solo in questo video che però musicista che si diverte anche a fare qualche qualche riparazione qualche modifica nei bassi e negli strumenti in generale quindi se avete critiche però scrivetemelo perché a me piace la critica perché almeno miglioro altrimenti se no uno va avanti dicendo ok sto facendo tutto bene se nessuno dice mai niente quindi per oggi intanto sarà diviso in puntate poi in capitoli ci sarà tutta parte scritta con le foto quindi video più foto tutto cercherò di fare tutto perché sono da solo qui è casino questi telefoni telecamere vabbè comunque ci si prova e se mi mettete mi piace quindi io soprattutto se vi iscrivete al canale quando pubblicherò i video eccetera eccetera vi arriverà la notifichina quindi ci vediamo nella prossima puntata